Ciao amici, si è conclusa anche la sesta blind di The Voice, hanno completato tutti i team, è stata brava anche stavolta Raffaello e Sardis i talenti, mi è piaciuto Fabio Di Gennaro, mi è piaciuto Filippino, mi è piaciuta Beatrice Ferrantino, l'ultima che ha esperto. Ma penso che anche gli altri coach siano stati molto bravi, siano i talenti nelle varie blind, l'unica mia delusione di The Voice riguardo alla produzione, come ho già sottolineato nell'altro video. E comunque non mi illudo più, basta e se continuerò a guardare questo programma è perché ci sono persone con le quali ho avuto a che fare nella mia vita e perché comunque ho una dignità di uno che ascolta musica e quindi devo farlo. Però se era per la produzione non l'ho mai più guardato, diciamo, è così. Però mi è piaciuta molto anche l'ultima blind, adesso ne vedremo di belle, nelle battaglie della prossima settimana, vedremo come saranno andate, insomma. Un abbraccio a tutti i fan di The Voice, saluto tutti quanti e al prossimo video. Ciao ciao.